allora dunque l'orologio di lusso non ce l'ho i vestiti firmati neanche la piattaforma qua super monitor 8 10 12 monitor con 10 12 conti demo non ce l'ho mi manca la vista oceano e o la supercar il messaggio promozionale a quell'evento che cambierà l'universo quello lo posso dire bene partiamo immediatamente con questo video titolo forte che potrebbe attirare tantissime critiche ma voglio invitare tutti coloro che hanno avviato la visione dello stesso a continuare a vedere questo filmato fino alla fine perché c'è una duplice sfida in corso vogliamo dare un messaggio opposto a quello che succede sulle sponsorizzate all'interno dei vari social network con tanti cialtroni con tanti buffoni che millantano qualcosa di non vero e che soprattutto illudono tantissime persone che stanno dall'altra parte del monitor chi ci conosce lo sa ci abbiamo sempre messo la faccia sia il sottoscritto che giuseppe roccasalvo che tra l'altro interverrà tra pochissimo all'interno di questo video per cercare sempre di dare un messaggio concreto e coerente con quello che è la realtà degli investimenti e della speculazione sui mercati finanziari 2022 si è avviato con grandissima volatilità sui mercati tant'è che la stessa mi ha permesso di realizzare quanto avete letto o quanto state leggendo qua sotto come titolo di questo video vi farò vedere tra pochissimo il report ma non c'è soltanto il report non c'è soltanto una cifra perché la cifra è soltanto un insieme di numeri davvero pesa pochissimo vi vorrei passare davvero questo e cioè quello è il risultato finale di un qualcosa che sta prima e che ovviamente voglio cercare di condividere all'interno di questo video e soprattutto con tutti quanti voi e allora il primo aspetto su cui baso la mia operatività è molto semplice analisi tecnica con un pizzico di analisi fondamentale l'analisi tecnica mi permette di trovare all'interno dei grafici quelle che sono delle aree di prezzo piuttosto interessanti ma soprattutto mi permette di stare fermo fin quando il prezzo non arriva su tale aree successivamente vado ovviamente ad analizzare quello che sta accadendo al prezzo per cercare di capire se eventualmente lo stesso genera dei pattern interessanti pattern di inversione pattern di continuazione quello che volete a tutto questo ci aggiungo quello che è un pizzico di analisi fondamentale e proprio per questo vi racconto anche questa diciamo parentesi fine 2021 inizio 2022 ho creato un piano nella nella mia testa per quanto riguarda la creazione di un portafoglio con diciamo la preparazione estesa su tutto il primo trimestre 2022 al che doveva generare poi successivamente secondo terzo trimestre 2022 se non fino alla fine del 2022 ovviamente il proprio sviluppo eventi hanno cambiato completamente la mia tesi che avevo costruito e quindi sono andato però ad adattarmi a quello che stava accadendo questo perché mi rilego a tutto ciò al punto numero tre che tratterò tra pochissimo per quanto riguarda un altro aspetto importante rischio e money management vi faccio tra l'altro raccontare un aneddoto da giuseppe stesso mi ricordo quando ci siamo conosciuti con francesco era il 2015 anno stesso da dove poi è partito tutto il nostro intero progetto vision forex la passione per il trading per gli investimenti era davvero tanta soprattutto la cosa che notai e che ci accomunava era la voglia costante di apprendere senza sentirsi mai arrivati la stessa voglia che tutt'oggi ci porta ad imparare ed apprendere sempre cose nuove chi ci segue da tempo avrà notato che non ci siamo mai definiti traders professionisti o i cosiddetti top traders perché non lo siamo siamo appassionati di mercati e condividiamo la nostra conoscenza e ciò che impariamo con tutti coloro che da tempo ci seguono con interesse e passione all'interno dei nostri canali mi ricordo che mi sorprese particolarmente perché aveva una conoscenza dell'analisi tecnica impressionante era già un ottimo trader aveva un pregio che io in quel periodo purtroppo non avevo riusciva a mantenere aperte le posizioni fino al proprio target rispettando tutte le proprie regole rispettando quella che era la propria strategia gli trovai però un difetto non di poco potrà smentire se vuole non conosceva minimamente il money risk management e l'importanza del position sizing all'interno della propria operatività tanto che durante una posizione su saipem causa profit warning perse davvero un bel po' di soldi soldi che causarono un drawdown dove ci volle del tempo appunto per recuperarli siamo sempre riusciti ad essere complementari proprio perché dove non arrivavo io arrivava lui e viceversa io sono sempre stato appassionato del money risk management motivo per cui li assieme quaderno e penna e gli spiegai tutte quelle cose che lo avrebbero portato nel medio lungo termine a fare la differenza nella propria operatività ed oggi ne capirete risultati su un conto reale ringrazio giuseppe per aver messo a nudo una mia passata debolezza ma non ci sono problemi su questo perché vogliamo essere sempre trasparenti e sinceri nei vostri confronti e tra l'altro tutto questo ci spinge sempre a studiare a migliorarci a leggere tantissimi articoli condividere gli stessi magari insieme a voi costruendo quelli che sono i tantissimi video e vi invito a rivederli perché nelle ultime settimane ne abbiamo pubblicati tantissimi all'interno dei quali abbiamo cercato sempre di dare tantissimi spunti che ovviamente non sono sollecitazioni all'investimento non vogliono essere un servizio segnali o chi più ne ha più ne metta sono semplicemente osservazioni e condivisioni di quello che è una nostra analisi una nostra osservazione una nostra riflessione sui mercati finanziari tra l'altro con umiltà continuiamo a domandarci se eventualmente possiamo fare qualcosa in più ebbene sì perché tra l'altro vi voglio invitare ad iscrivervi al nostro canale youtube ma soprattutto al nostro canale telegram perché nelle prossime settimane cercheremo di organizzare anzi ovviamente lo faremo organizzeremo dei webinar chiusi ovviamente a coloro che si iscriveranno attraverso quelle che saranno le nostre comunicazioni i nostri link che pubblicheremo sul canale telegram per cercare ovviamente di approfondire le varie tematiche che coinvolgono i mercati finanziari giuseppe vi ha parlato di risk e money management su cui ero carente sono sincero in queste ultime settimane ho operato con un piede sull'acceleratore quando quando ho visto che l'operazione andava nella mia direzione questo mi ha permesso comunque sia di proteggere il capitale con uno stop in profit o un break even impostato e soprattutto con uno stop in profit di magari mandare in anti martingala quindi aprire ulteriormente posizione sempre nella stessa direzione della mia idea per quanto riguarda quello che stava accadendo sui mercati infine un ulteriore punto prima di andare al report riguarda l'emotività o comunque sia la gestione di se stessi che è una cosa difficilissima rispettare le regole che ci possiamo impostare con il primo punto analisi tecnica è fondamentale o comunque sia quello che per ognuno di voi è un suo approccio ai mercati andare alla gestione del rischio e del money management chiaramente comporta sì una serie di regole ma devono essere rispettate e le regole si rispettano se siamo emotivamente connessi o emotivamente flat quindi non siamo né troppo positivi e neanche troppo negativi questo perché le emozioni purtroppo intervengono nel rispettare il nostro piano strategico alterandolo e quando succede questo sicuramente qualcosa non va tra l'altro vi invitiamo sempre a riflettere su questo aspetto perché se eventualmente la vostra esposizione al mercato vi scompone vi smuove qualcosa emotivamente c'è qualcosa che forse non va quindi mi raccomando su questo aspetto ognuno di voi deve lavorare non siamo psicologi ma soprattutto perché non sappiamo quelle che sono le vostre esperienze passate non vi conosciamo personalmente non sappiamo quella che è la vostra storia è davvero un reparto e una parentesi molto difficile bene dopo tutto questo preambolo che spero possiate apprezzare andiamo su quelle che sono le cifre soprattutto per quanto riguarda la performance che vi ripeto spero che tanti di voi non prendano come diciamo core di questo video è un semplice risultato di quello che vi ho raccontato in precedenza ed è quello che ho fatto andiamo con la condivisione come potete vedere ci sono state poche operazioni in questo mese perché come potete notare sono totale 39 operazioni di cui 37 in positivo soltanto due in negativo va benissimo tutto il resto ma tornando a quello che è un punto importante si genera volatilità la volatilità mi ha concesso l'onore di proteggere quello che era la mia esposizione il mio capitale a rischio questo perché perché quando vedevo che immediatamente o comunque sia in poco tempo la posizione andava nella direzione che avevo ipotizzato stop a break even stop in profit e quindi anche qualora ed è successo alcune operazioni sono andate stop in profit chiaramente fanno parte di quelle operazioni vincenti ma nel totale praticamente in un mese ho fatto neanche 40 operazioni molto poche un altro aspetto che voglio sottolineare è il codice che magari a qualcuno di voi è sfuggito in alto è semplicemente il codice identificativo del conto e per scacciare quelle che sono critiche dubbi perplessità anche per chi vuole criticare chiaramente vi faccio vedere anche questa schermata che fa parte di quello che dimostra che è un account reale quello che vi ho mostrato con le sue performance e così via se c'è qualcuno poi che farà domande su ma che percentuali ma qua ma là non ha capito niente non è questo il messaggio che vogliamo passare all'interno di questo video è semplicemente una condivisione di quello che è il mio modo di operare che in questo caso ha funzionato bene direi ma che magari successivamente o anche in passato non funziona così bene funziona meno bene ma cercare di rispettare le regole che ci siamo imposti è molto importante noi dal canto nostro cerchiamo di condividere con voi quella che sono ripeto ancora una volta e poi chiudo quelle che possono essere riflessioni analisi e così via spero possiate apprezzare questo video che non è assolutamente stato fatto per fare gli sboroni o fare io stesso lo sborone ma semplicemente per condividere un'esperienza e soprattutto cercare magari di passare un messaggio positivo a tutti quanti voi che visionate questo video e per cercare magari di spingervi a fare meglio perché magari so che in una piccola parentesi magari per un lasso di tempo purtroppo molto breve alcuni di voi hanno fatto bene ma successivamente c'è stato qualcosa che non è andato bene e che purtroppo vi ha fatto magari accusare delle perdite ma se analizzate che cosa avete fatto nel periodo negativo sicuramente scoprirete la vostra risposta che magari vi cambierà in meglio quello che sarà il futuro nella vostra operatività sui mercati finanziari non è stato facile realizzare questo video da parte da parte mia perché comunque sia non non mi va di fare di far vedere queste cose soprattutto per poi quella che è stata la performance e così via perché è un tasto sicuramente piuttosto delicato spero però spero però ecco chiudo davvero di avervi passato un messaggio positivo ci tengo se volete evidente siamo aperti ai commenti anche alle critiche per chi vorrà criticare questo video a me non resta che ringraziarvi anticipatamente augurarvi una buona giornata e attendervi al prossimo video hai trovato la nostra diretta interessante iscriviti al nostro canale youtube attiva le notifiche e resta sempre aggiornato su tutte le nostre news grazie e buona giornata